Spazio alla satira sociale dalla comicità di Gino Rivieccio al teatro Cilea con Faccio progetti per il passato. Lo spettacolo scritto dal popolare comico napoletano con Gustavo Verde per la regia di Luigi Russo. Ci troviamo sul palcoscenico del teatro Cilea in compagnia di Gino Rivieccio. Faccio progetti per il passato, ma cosa ci sono in questi progetti Gino? Beh c'è una revisione di certe cose alla mia maniera, lo faccio in maniera molto ironica, molto leggera, una riflessione su come è cambiata la nostra vita. Insomma diciamo la verità di questi tempi molti fanno progetti per il passato, il che non significa avere nostalgia del passato, non significa fare un'operazione nostalgica, retro e quindi come dire dettata da una certa malinconia, ma rivedere un po' il passato per capire quali sono ancora le cose utili che potrebbero tornare utili adesso nel moderno. In questo spettacolo faccio una serie di riflessioni, lo spunto me lo dà l'attesa nel piano bar dell'albergo che è la location che vedete, dove io aspetto una persona, devo incontrare questo signore e nell'attesa do vita a una serie di riflessioni musicali e non su come è cambiata la nostra vita, su come sono i tempi che stiamo vivendo e devo dire che insomma sposo in pieno le idee, i gusti del pubblico che di questi tempi, ripeto, fa spesso progetti per il passato.